Benvenuti a Piaggio Benvenuti a Piaggio E fece il giuramento d'amore con mamma Sì, sì, sì Mio fratello Il ragazzotto coi capelli ricci e le fossette Dopo due anni arriva io L'astrologo aveva predetto una bambina E papà era sul set di un film Quando a mamma cominciarono a venire le dolie Il file posteriore di un tassì Didi il mio primo respiro Sì E poi mi ricordo Che un giorno mamma e papà Ci portarono a fare il picnic Cominciò su una nave Sulla quale navigammo per due giorni Finché arrivamo a Caraci Lì ci trattenemmo qualche mese Ma non ritornammo mai più a casa Partimo invece per un altro picnic Che questa volta ci portò alla città di Lahore A quel punto capimmo che il picnic era finito E che la città di Lahore Sarebbe stata la nostra nuova casa La nuova casa era il Pakistan Mi sentivo diverso Avevo le corna Il Pakistan a quel tempo Non era ancora la Repubblica Islamica del Pakistan C'era il Pakistan occidentale E il Pakistan orientale Il Pakistan occidentale importava allegramente Juta e riso dall'est Gli occidentali mangiavano carne e rotti Gli orientali pesce e riso I pakistani dell'est erano diversi Avevano le corna E quando queste corna crebbero troppo Da non poterle più nasconderle Scoppiò una guerra E nacque il Bangladesh Che conosceva tutto del calcio E di Bruce Lee Ma che soprattutto Mi introdusse ai piaceri del mondo E'e l'altro E'e l'altro E'e l'altro E'e l'altro E'e l'altro Benzio's Mediterranean diet Much of it was not of Mediterranean It came from elsewhere From the tomatoes From Peru E'e l'altro E' un immigrato E' un immigrato Plandestino E' un immigrato 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 La gente qui pensa che sono italiana Dopogiorno Sudando per le strade Consento a vecchi uomini volgari Di toccarmi Per sbaglio Forse quando saremo legali Le cose andranno meglio E cosa cambierà? Saremo in grado di comprare una casa E cosa vi darà una casa? Felicità Metterai su famiglia? Non lo so se metterò su famiglia E poi che cosa farebbe? Subire però delle ingiustizie a scuola Come mio nipote Perché è diverso Tornerai indietro? Non si torna indietro Mi è giunta voce Che fai cose cattive a Londra Con il tuo amico Ma non è che sei diventato Un ragazzo omologo? Cosa? Vorresti dire Omosessuale? Sì, sì, sì E' la stessa cosa Se sei attivo Va bene E la prossima pietanza Venga da un'altra Sicuramente Saremo in grado di comprare una Saremo in grado di infosì Si la sent 잊à Sono sodessuale cucitare Se gar nicht Venga di infosì Saremo in grado di infosì Si ada Il flexible Venga Il quello che face Come Erano strani animali, né mucche né capre E aspettandomi di trovare degli allevatori italiani con peso nel trovare che coloro che si prendevano cura delle bufale Erano stati anche essi trasportati dall'India Così lontani di casa, proprio come le bufale, questi lavoratori migranti non sono altro che delle macchine per fare soldi A volte mi seduce per ore Una volta proprio in una di queste chat incontrai un mezzo Cominciò a diventare troppo familiare e noi darci quei scontati Allora smettemmo di essere amanti Attraverso questa persona ho capito che l'amore è sacro Nell'attraversare una sopraelevata notai una moschea, molto bella, e gli chiesi il nome Ben Shod, figli di puttana, questi bastardi stanno rovinando questa città Questi non hanno onore, si venderebbero pure la madre e il padre Mi chiese solo di abbracciarlo E ci abbracciamo Grazie mille Grazie. 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 Grazie.